Crollata una parte della controsuffittatura dell'aula Mura Greche dell'Università di Napoli, l'Orientale. Si tratta di una delle aule più belle di Palazzo Corigliano, in piazza San Domenico Maggiore, che ospita sia la didattica sia le sedute di laurea. Il crollo è avvenuto nel fine settimana, quando la struttura universitaria è chiusa. Fortunatamente, quindi, nessun danno alle persone. Ma questo incidente ripropone con forza il tema della manutenzione dell'edilizia universitaria. Come spiega Emanuele Elefante, rappresentante degli studenti nel CDA dell'Ateneo. Ciò fa emergere, un lato, una questione abbastanza atavica per quanto riguarda la nostra università, l'Orientale, per quel che concerne gli spazi, l'accessibilità degli stessi e la messa in sicurezza degli stessi, che deve essere una cosa di primo ordine, proprio per garantire la sicurezza degli spazi e proprio anche della componente studentesca. Il pensiero va all'Università di Cagliari, interessata da un crollo ben più importante, come ricorda Federica Saponaro, rappresentante degli studenti in seno al Senato accademico. Vediamo come l'Università di Cagliari sia totalmente crollato il soffitto dell'Aulamagna. Vediamo come all'Università di Cagliari in Aboli Federico II ci sono state delle infiltrazioni d'acqua, proprio durante quelle che sono state le acquazioni degli ultimi giorni. È fondamentale che ovviamente nell'Università e negli spazi, luoghi di sapere, luoghi di formazione, sia garantita un'edilizia sicura perché ovviamente se non sono degli spazi accessibili, se non sono degli spazi agibili, se non sono degli spazi dove banalmente c'è ovviamente una disposizione, c'è una fruibilità totale degli spazi che permette a tutti gli studenti in serenità di poter seguire le lezioni, senza problemi di sovraffollamento, senza problemi di soffitti a caso che ti mettono ovviamente a rischio, non è possibile poter parlare ovviamente di diritto allo studio come di un diritto effettivamente garantito.